Il degrado e la conseguente chiusura di un tratto importante dell'E45 è un problema nazionale, un nodo che di fatto taglia il paese in due e assume una gravità enorme. Chiediamo pertanto al presidente della Regione Rossi che si confronti rapidamente con il suo collega alla guida dell'Emilia Romagna per chiedere lo stato di emergenza. E' questa la richiesta di Ferrer Vannetti, presidente di Confartigianato Arezzo a seguito della chiusura dell'E45, una chiusura dichiara che nasce da un degrado che è inaccettabile al quale occorre porre il rimedio al più presto. Lo stato di emergenza, prosegue Vannetti, consentirebbe anche di attivare tutte quelle procedure tecniche di sgravo e ristoro dei costi aggiuntivi legati alla situazione che si è venuta a creare e che alleverebbero almeno in parte le difficoltà delle imprese del territorio. Confindustria lo definisce un disastro annunciato e chiede subito i lavori nella vecchia statale Trebissa. Ormai da tempo, dicono, avevamo denunciato lo stato di degrado di ponti e viadotti sulla Orte Ravenna, in particolar modo al confine tra Romagna e Toscana, spiegano dall'associazione. Nel 2016 proseguono il ministro del Tesoro ha disposto, grazie all'interessamento del sindaco Bragani, un finanziamento di 2,6 milioni di euro su un progetto ANAS che non è stato ancora appaltato per problemi di carattere burocratico. Adesso però è giunto il momento di ripristinarla, tenuto conto che la manutenzione e la messa in sicurezza dei viadotti richiederà una loro chiusura totale o parziale per un periodo molto lungo e questo costituisce un danno enorme sia per le aziende che per tutto il territorio. Conf Commercio ha definito la misura comprensibile, vista le condizioni in cui versa il viadotto, ma a preoccupare l'associazione di categoria, come dichiara il responsabile della delegazione Conf Commercio di Sansepolcro, è l'incertezza su come si svilupperà la situazione e soprattutto sui tempi di riapertura, che preoccupano non poco gli imprenditori che hanno attività economiche in quell'area. Tante imprese, dicono, rischiano infatti di restare isolate e perdere numeri importanti del fatturato.